Bentornati con le consuete previsioni a cura di Meteo One. Un'aria di alta pressione, estesa dal Mediterraneo occidentale fino al centro nord Europa, tenderà parzialmente ad indebolirsi lungo il suo bordo orientale, consentendo ad una massa di aria fresca e di stabile di interessare le regioni adriatiche e più in generale il nostro centro-sud. Ne conseguirà una veloce ma intensa sfuriata temporalesca accompagnata da forti venti e locali grandinate con temperature in calo. Andiamo a vedere nel dettaglio il tempo sulle nostre regioni per giovedì 25 maggio. Già dalle prime ore del mattino avremo cielo molto nuvoloso, coperto con fenomeni che interesseranno prima la Puglia settentrionale e poi gradualmente la Basilicata e i settori peninsulari pugliesi. Ancora molta instabilità nella prima parte del pomeriggio con rovesce temporali sparsi localmente forti, specialmente sulle zone interne della Puglia e della Basilicata. Durante i temporali si potranno verificare delle locali grandinati o colpi di vento. Migliora dal tardo pomeriggio sera. Temperature in diminuzione più marcata nei valori massimi. Soffieranno venti moderati dai quadranti settentrionali e per quanto riguarda i mari poco mosso lo Ionio mosso l'Adriatico. Per il nostro consueto appuntamento con la foto del giorno oggi ringraziamo la nostra telespettatrice Emilia Maiullari per questo meraviglioso scatto dalle sponde del torrente Camastro immerso nel fitto bosco nei pressi delle Dolomiti Lucane. Se volete inviare la vostra foto del giorno contattateci al numero WhatsApp e alle mail che vedete in sovra impressione. La foto migliore verrà mandata in onda nella prossima puntata. Grazie per l'attenzione e arrivederci al prossimo appuntamento.